E' stata inaugurata l'annuale riapertura stagionale del camminamento di ronda sulle mura di Marostica. Quest'anno si festeggiano i 649 anni da quel mese di marzo del 1372, quando, su progetto dell'allora signore di Verona e Vicenza, veniva posta la prima pietra per la costruzione della cinta. Turisti e residenti potranno cimentarsi nella passeggiata in quota tutte le domeniche pomeriggio e i festivi dalle 13.30 alle 17.30.